Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Oggi abbiamo una notizia emozionante da condividere con voi riguardo a una delle figure più amate nel mondo dello sport e dell'intrattenimento. Prima di iniziare, assicuratevi di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. Dunque, entriamo nel vivo della notizia. La meravigliosa Diletta Leotta, celebre giornalista sportiva e conduttrice televisiva, sta per diventare mamma di nuovo. Sì, avete sentito bene. Dopo l'arrivo del piccolo Matteo, Diletta e la sua famiglia sono pronti ad accogliere un altro membro nella loro gioiosa famiglia. È davvero bello vedere Diletta così felice e radiante in questo periodo. La sua carriera sta andando a gonfie vele, e ora sta anche vivendo questa meravigliosa esperienza della maternità per la seconda volta. Non possiamo fare altro che congratularci con lei e inviare i nostri migliori auguri alla sua famiglia in crescita. Non sono ancora stati rilasciati molti dettagli sulla gravidanza di Diletta, ma sappiamo che i fan sono entusiasti di condividere questo momento speciale con lei. Sarà interessante vedere come Diletta gestirà la sua carriera e la sua vita familiare con l'arrivo del nuovo piccolo. E con questo concludiamo il nostro breve aggiornamento su Diletta Leotta e la gioiosa notizia della sua gravidanza. Non vediamo l'ora di vedere la sua famiglia crescere e di seguire la sua avventura di genitorialità. Se avete pensieri o auguri da condividere, lasciate un commento qui sotto. Grazie per averci seguito, e ci vediamo al prossimo video.